Buongiorno a tutti, sono in compagnia di un bell'entisco, Modissi, noi lo chiamiamo così, in un luogo di Sardegna bellissimo, a cui noi siamo molto affezionati perché possiamo riposare e gustare ottimi piatti. Speriamo che sia una giornata veramente piacevole di riposo perché ne abbiamo davvero tanto bisogno, quindi sei curioso di sapere dove sono? Allora, aio, benighe di gontu! Ci troviamo a Tortoli e questo è esattamente il golfetto. L'acqua del mare è cristallina e questo è il ristorantino in cui normalmente noi ci fermiamo a pranzo. Si mangia molto bene e soprattutto si può, oltre che gustare i piatti, si può ammirare questo specchio di mare della nostra bellissima Sardegna. L'area è dotata anche di un bel parco ed è possibile mangiare anche qui sotto il bosco di Eucalipto. Questo è proprio l'ingresso dell'area bar, bar-restorante. L'area è tutta molto ben curata. L'acqua è bellissima, l'intivissima. La sabbia in prossimità della spiaggia è dorata, bronzo, perché ci sono tante piccolissime particelle che arrivano dai graniti che ci sono tutta attorno. Spesso in Sardegna le spiagge sono così grazie alle pietre che ci sono attorno ad essa. Beh, sti pensare a Isarutas, provincia di Oristano, dove la spiaggia è di piccoli cristalli di quarzo che arrivano dall'isoletta di Maldiventre. Quindi quando si dice che ci portiamo via i ciotoli per preservarli dal mare, in realtà è il mare che ce li dona. Quindi i ciotolini lasciateli lì. Con questi colori bellissimi, di quest'acqua fantastica, vi ribadisco l'invito a venire a scorrere qui almeno una giornata perché è tutto stupendo. Come d'altronde lo sono quasi tutte le spiagge della nostra bellissima isola. Ce ne diciamo qualcuna più bella, ma belle lo sono veramente tutte. Vi auguro una buona giornata e a prestissimo.